Resin Podcast a caldo per il Gran Premio del Qatar che ci ha concluso da pochissimo, domina Lewis Hamilton la gara a Qatar Riot all'esordio assoluto in Formula 1 ai danni di un Max Verstappen che conquista la seconda posizione limitando i danni ma poteva secondo me comportarsi in modo diverso in sabato in qualificazione. Una gara che per la verità non è stata propriamente bella, ci sono stati dei tentativi di strategia azzardata da parte della Red Bull che però non hanno funzionato e di conseguenza abbiamo avuto una gara abbastanza piatta con Hamilton primo a un'eternità di vantaggio su Max Verstappen secondo che comunque ha una soddisfazione relativa a quella di portare a casa il giro più veloce della gara e di conseguenza guadagnare un punto tradizionale fondamentale nella lotta mondiale. Adesso il distacco tra l'inglese e l'erlandese Max Verstappen è di 8 punti e tra due settimane si corre subito in Arabia Saudita. La gara per la verità al mio modo di vedere non si è decisa però alla domenica ma si è decisa di fatto al sabato. Per questo episodio qui e andiamo subito a vedere con le immagini siamo in Q3, Verstappen sta migliorando il suo giro di qualificazione, Verstappen era già secondo in Q3 quindi avrebbe comunque garantito la prima fila. C'è un inconveniente a Pierre Gasly che vediamo in fondo all'immagine che causa la bandiera gialla, una doppia bandiera gialla in realtà segno di pericolo importante in pista. Il regolamento dice espressamente che in caso di bandiera gialla o doppia bandiera gialla non è consentito migliorare, Verstappen se ne sbatte altamente, migliora lo stesso per alto di un solo decimo con un Hamilton che aveva già stravinto la qualificazione e aveva portato a casa l'ennesima posizione della carriera, Verstappen migliora, viene investigato e viene penalizzato. Non è un gesto che a mio modo di vedere ha senso perché una bandiera gialla per definizione congela le qualificazioni e dunque Verstappen sarebbe comunque partito in prima fila. La penalizzazione conseguente per aver fatto l'eccessivo miglioramento è stata di 5 posizioni. Da una seconda fila comunque bloccata, seconda posizione meglio, bloccata dalla qualificazione, Verstappen è dunque in settima posizione e è dovuto diciamo riprendere tutto da dietro inventandosi partenze incredibili giungendo comunque secondo. Se comunque devi limitare i danni tanto vale partire dall'avanti evitando di essere penalizzato cercando di prendersi rischi inutili perché comunque Verstappen è vero che ha magia di vantaggio ma con questo Hamilton che ha un motore più performante e una Red Bull che ha scelto di non cambiare il motore in anticipo è vero evitando penalità ma comunque ricordiamo che la Red Bull corre con un motore vecchio di 6 gare evidentemente bisogna cercare di giocarsela punto su punto. D'accordo questo concetto ma non ha senso secondo me sprecare una seconda posizione certa per partire settimo per poi comunque arrivare secondo. Non abbiamo la contropropa va detto che Verstappen fosse comunque arrivato secondo anche partendo dalla stessa posizione probabilmente sì perché Hamilton in questa gara aveva un passo decisamente superiore d'accordo che il giro veloce l'ha portato a casa Verstappen ma Verstappen ha portato a casa il giro veloce con le gomme rosse sfruttando un regime di virtual safety car. Ciò non toglie che appunto come dicevo all'inizio i danni sono comunque limitati ma ciò non toglie che Hamilton vince la seconda gara consecutiva dopo il Brasile ed è evidente come ci sia questo miglioramento da parte di Mercedes che ha implementato questo nuovo motore questa ultima power unit molto efficacemente e in Brasile abbiamo visto cosa ha combinato qui non c'era evidentemente storia di una pista che è vera e molto veloce ma è difficile che venga classificata una pista di motore perché c'è un solo rettino veloce per il resto è una situazione molto tecnica la pista del Qatar la conosciamo visto che ci ha corso sia la superbike sia la MotoGP invece in questa pista Hamilton ha dato dimostrazione di essere comunque sul pezzo per la lotta al titolo del mondo di dimostrare ancora una volta di essere in queste ultime due piste l'uomo da battere e pur il miglior Verstappen pur con tutte le strategie che hanno fatto non è riuscito evidentemente a conquistare dei punti supplementari che lo avvicinerebbero sempre di più al primo titolo del mondo della carriera adesso Verstappen come vediamo dalla classifica è ancora il leader con 351,5 punti ma Hamilton è dietro a 343,5 dunque 8 in totale per Hamilton se non sbaglio è la vittoria numero 103 della carriera e per lui suona God Save the Queen il vero però MVP della giornata non è neanche Max Verstappen che a mio modo di vedere si è arrivato secondo ma facendo un po' il bello e il cattivo tempo è appunto Fernando Alonso che completa il podio in una gara magistrale Alonso sfrutta molto bene le penalizzazioni occorse a Verstappen e a Bottas che è stato squalificato diciamo anche lui di 5 posizioni a differenza appunto per esempio come vedremo anche con Carlos Sainz fatto sta che appunto Gasly e Alonso partono secondo e terzo alla fine Gasly finisce undicesimo e Alonso finisce terzo con una strategia molto rischiosa ma che comunque ha pagato perché Alonso a differenza degli altri piloti e per esempio Verstappen e Hamilton appunto ha fatto una sosta sola anziché le Canonic 2 come da previsione Alonso a 40 anni torna sul podio 7 anni dopo l'ultima volta ed è il pilota che ha stabilito un nuovo record perché è il pilota con più gare di differenza tra un podio e l'altro però è sempre bello vedere un pilota che dal mio modo di vedere è uno dei primi 10 periodi della storia della Formula 1 il mio modo di vedere come talento puro anche adesso ha dimostrato di saperci stare alla stragrande in Formula 1 e di talento puro probabilmente Alonso sarebbe probabilmente ancora oggi a 40 anni sonoati uno dei primi 5 al mondo ha una macchina che comunque si è tolta delle soddisfazioni vincendo una gara in Ungheria con Ocon è comunque una macchina che poteva avere forse più chance sulla carta ma evidentemente è un progetto ancora in evoluzione quello della nuova Alpine Renault comunque Alonso merita senza se e senza ma il titolo di driver del giorno in una gara appunto per la verità molto monotona perché appunto la vera gara secondo me è durata 7 giri cioè il tempo che Verstappen ha impiegato ad arrivare in seconda posizione ha provato a sondi giri veloci a ricucire su Hamilton ma alla fine il vantaggio appunto già del pilota inglese era già di 5 secondi al settimo giro e poi appunto è andato sempre via via aumentando fino appunto a un massimo vantaggio di 10 secondi non contiamo il fatto che poi Verstappen si è fermato in virtual safety car per mettere le gomme rosse però è segno che appunto in questa pista Hamilton era ingiocabile e rischiare il freddo brilletto in modo così avventato per Verstappen secondo me non aveva senso si poteva pensare tranquillamente di partire secondo tanto quella macchina che hai anche se è una Red Bull con un motore meno potente e anche delle modifiche all'ala anteriore se non sbaglio è una macchina abbastanza competitiva e per limitare i danni in questa gara ci poteva tranquillamente stare senza azzardare una settima posizione penalizzata appunto dalle 5 partendo dalla seconda posizione è una gara che appunto vale per l'avvicinamento al titolo del mondo quantomeno alla sua conclusione vale per quanto riguarda la rimonta di Hamilton che pian piano sta arrivando nelle ultime quattro gare appunto ne ha vinta due Verstappen e due Hamilton tra due settimane si va in Arabia Saudita circuito anche qui inedito e vedremo come si comporteranno i due contender al titolo del mondo Jedda dicono sia una pista iper veloce è una pista molto lunga praticamente lunga poco meno di Spa e veloce praticamente come Monza è una conformazione inedita che io in realtà ho visto soltanto nel gioco di Formula 1 2021 vedremo come si approceranno i piloti appunto nel diciamo doppio appuntamento finale il 5 dicembre in Arabia Saudita il 13 a Santa Lucia ad Abu Dhabi gli altri piazzamenti intanto per concludere questo Racing Podcast abbiamo avuto un Sergio Perez quarto che ha tentato anche lui la rimonta su Fernando Alonso ma anche qui il divario era troppo ampio per essere colmato l'Alpine fa comunque bene e si merita il premio secondo me di team della giornata perché Esteban Ocon finisce tranquillamente quinto pound for pound la migliore gara della carriera dopo ovviamente la vittoria straordinaria lunga lo ring sesta posizione è per Lance Stroll che anche lui pound for pound con Aston Martin disputa una delle migliori gare della carriera peraltro battendo il suo compagno di squadra Sebastian Vettel settima posizione per Carlos Sainz per una Ferrari che ha sempre dimostrato in realtà di fare molta fatica in questa pista di Qatar Carlos Sainz si è qualificato al Q3 ma nelle posizioni basse della classifica Leclerc addirittura è andato fuori in Q2 segno che qui la Ferrari evidentemente ha tirato molto i remi in barca così come la diretta concorrente per il terzo posto al mondiale costruttore ovvero alla McLaren che ne porta punti soltanto una Lando Norris finisce in nonna posizione mentre Daniel Ricciardo ancora una volta fuori dai punti è una McLaren che sta involvendo paurosamente in una rincorsa al terzo posto del titolo costruttori che evidentemente fino a qualche gara fa era pannaggio della scuderia con la macchina arancione invece la rossa sta andando pian piano migliorando e di conseguenza anche questo sarà uno sprint verosimilmente involata alle ultime gare la McLaren va detto purtroppo dopo i fasti di Monza praticamente ha spento la luce e ha raccolto le briciole la Ferrari invece ha dimostrato di avere tanta evoluzione ultima posizione a punti Sebastiano Fetta abbiamo già detto decimo che più una volta prende paga da Lance Stroll parentesi anche una volta Santoro Giovinazzi alla terzo ultima gara della carriera in Formula 1 non l'abbiamo mai visto inquadrato Giovinazzi purtroppo si ritira per l'ennesimo problema tecnico occorso in Alfa Romeo Sauber in una stagione che appunto lo ha visto accompagnato alla porta in favore del cinese Guanyo Zhou va detto però che Giovinazzi non rimarrà a piedi del tutto perché l'anno prossimo lo vedremo nella stagione di Formula E con il trim Dragon Pansk in un comunque parterre di piloti molto molto interessante adesso la Formula 1 si prenderà due settimane di pausa in questo trittico del Medio Oriente che deciderà il titolo del mondo 2021 è difficile a mio modo di vedere adesso indicare un favorito io fino alla gara del Brasile avrei detto ancora una volta Verstappen con questa vittoria di Hamilton faccio più fatica a indicare un favorito vero e proprio perché Hamilton è evidentemente in rush con appunto la power unit nuova e le migliorie apportate Verstappen sta facendo qualcosa di folle cioè pensare di concludere l'ultimo scuso di stagione con un solo motore a differenza di Mercedes che comunque ha rischiato pagando una penalità all'inizio però poi adesso sta pagando i dividendi la power unit fresca Verstappen ha comunque un vantaggio che è importante in un mondiale giocato punto a punto 8 punti di vantaggio sono tanti e importanti bisognerebbe vedere cosa succederà a Jeddah che sarà veramente la cartina di tornasole secondo me dell'intero campionato del mondo se Verstappen dovesse finire davanti a Hamilton in Arabia Saudita allora Abu Dhabi è un all of nothing per Hamilton viceversa ovviamente per Max Verstappen che avrebbe molto più da perdere qualora Hamilton incassasse la terza vittoria consecutiva in ogni caso fate pensare cosa ne pensate anche di questa opinione e in generale della gara del Qatar che come esordio sinceramente non è stato proprio indimenticabile speriamo che nei prossimi anni visto che il Qatar è confermato anche per le prossime stagioni ci possano essere gare un po' più spettacolari per quanto il circuito secondo me si possa prestare anche il mondiale di Formula 1 il saluto da parte di Mettuto Orgard il prossimo appuntamento sul canale sportivo sarà la prossima settimana con il pagione promossi e bocciati del mondiale Superbike peraltro stamattina a luna è uscito il recent podcast sul mondiale di Toppo ragazzi Toglu vinto quindi anche quello andatevelo a recuperare perché ne vale veramente la pena e dunque con gli appuntamenti abbiamo fatto ci vediamo al prossimo video